L'agguato, in evidente stile mafioso contro l'agricoltore Vincenzo Gaspare Corvo, si è verificato nel suo podere, situato in località Villanova, nelle campagne di Lucca Sicula, a pochi passi dal campo sportivo. Il killer l'ho affreddato sparandogli un colpo di fucile al volto, colpendolo alla gola. Sposato è padre di due figli, Corvo era incensurato, tuttavia il suo nome in passato era finito negli atti dell'inchiesta antimafia denominata Maginò, quella a suo tempo condotta dalla DDA di Palermo risalente ormai a nove anni fa. All'epoca la Procura della Repubblica aveva chiesto l'arresto di Corvo, ma il giudice per le indagini preliminari Pier Giorgio Morosini disse di no. Un'indagine culminata con una raffica di arresti nei confronti di soggetti, tutti considerati a vario titolo fiancheggiatori del capo mafia della provincia di Agrigento Giuseppe Falsone, che era stato appena arrestato in Francia. Ad indagare sull'omicidio di Vincenzo Gaspare Corvo sono i carabinieri della locale stazione e quelli della compagnia di Sciacca agli ordini del capitano Marco Ballanna. Gli inquirenti non escludono alcune ipotesi, anche se sembra assai improbabile che un delitto di tal genere, per le sue modalità soprattutto, possa inquadrarsi nell'ambito di una banale lite tra agricoltori, magari per un problema di mancato rispetto dei confini. Assai conosciuto in paese, Corvo, per una quindicina d'anni, ha gestito un negozio situato proprio di fronte alla Casa Comunale. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco, Salvatore Dazio, il quale ha detto che la comunità di Lucca Sicule è sotto shock. Vincenzo, dice Dazio, era una persona che ricordiamo con affetto, umana e sempre disponibile con tutti. Condanno, ovviamente, il gesto, conclude il sindaco. Siamo vicini e familiari e Lucca si dissocia da tali atti irriprovevoli che non identificano il nostro modo di vivere ed agire.